L'ONG Master Collection, l'armonia perfetta tra tradizione e innovazione. L'orologio da polso Master Collection incarna l'eccellenza dell'arte orologera, unendo in modo sublime tradizione e innovazione. La storia della Master Collection rappresenta una traiettoria di prestigio e dedizione all'arte orologera. Sin dal suo debutto, questa collezione si è affermata come un simbolo di maestria artigianale e design impeccabile. Ogni orologio appartenente alla Master Collection è frutto di anni di esperienza e di competenza, riflettendo la dedizione per l'alta qualità e l'innovazione. Il design della Master Collection è un trionfo di armonia e dettagli ben studiati. Ogni dettaglio, dalla forma della cassa alle lancette e agli indici, è attentamente ponderato per creare un'estetica affascinante e funzionale. Il quadrante spesso presenta complicazioni sofisticate, dimostrando l'abilità degli orologiai di combinare tradizione e modernità. La cassa, le finiture e i materiali selezionati riflettono l'impegno verso la perfezione e l'intento di creare opere d'arte da indossare. Molte celebrità di fama internazionale hanno scelto la Master Collection come espressione del loro stile e raffinatezza. L'orologio ha adornato i polsi di personalità come attori di Hollywood, musicisti famosi e icone del mondo degli affari, sottolineando il suo status di simbolo di prestigio. La Master Collection ha spesso introdotto innovazioni significative nel campo dell'orologeria. Nuovi movimenti, materiali all'avanguardia e funzioni complesse sono stati incorporati in questa collezione per fornire agli appassionati di orologeria esperienze uniche. Questa dedizione all'innovazione ha contribuito a stabilire record di precisione e affidabilità in diverse competizioni e sfide. In sintesi, la Master Collection rappresenta l'equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione nell'alta orologeria. La sua storia di prestigio, il design iconico e le innovazioni tecnologiche la rendono un'icona senza tempo. Indossare un orologio della Master Collection è un tributo alla maestria degli artigiani orologiai e all'eccellenza nell'orologeria. Con la sua storia affascinante, il design raffinato e l'impegno verso la perfezione, la Master Collection continua a brillare come un simbolo di prestigio nell'universo dell'orologeria di lusso. Scegliere un orologio della Master Collection è abbracciare l'eredità dell'arte orologiaia e l'essenza dell'eccellenza e dello stile senza tempo.